Io ti consiglio di lasciare tuo marito, lasciare tuo marito e rifarti una vita da sola, perché immagino che stare con un uomo che non ami, che non ami più, sia in qualche modo riduttivo per la tua persona e per la tua libertà, quindi questo è proprio il caso, dato che non c'è più l'amore, di lasciare questa persona e di ricominciare da te stessa e poi sicuramente nella tua vita verrà qualcun altro che ti piacerà, che amerai nuovamente, oppure anche no, però insomma sarai libera da impegni e potrai condurre la tua vita come meglio credi.